la pandemia entra in una nuova fase con meno contagi e tanta speranza di aver ormai superato il picco ma sono ancora troppi morti e da lunedì le marche saranno in fascia arancione da soli dice papa francesco non ci si salva la fratellanza è un percorso difficile ma è la sua ancora di salvezza per l'umanità olimpiadi invernali trasporta e politica apertura dei giochi in cina mentre a pechino xi e putin rinsaldano l'alleanza antiamericana sullo sfondo la questione ucraina commozione oggi in campidoglio per l'omaggio a monica vitti nella camera ardenta allestita domani alle 15 a roma i funerali dell'attrice le 20 e 30 e una manciata di secondi buonasera benvenuti al tg 2000 dunque il capitolo pandemia con segnali incoraggianti che arrivano dai dati diffusi oggi il ministro speranza parla di una fase nuova sentiamo luciano piscaglia i nuovi casi sotto quota 100.000 il tasso di positività che cala all'11,2 per cento le terapie intensive i ricoveri che scendono sono ancora tanti 433 i decessi ma il bollettino di oggi che conferma i dati settimanali dell'istituto superiore di sanità sembra sostenere l'auspicio del presidente dell'istituto silvio brusaferro che la curva epidemica abbia superato il picco i dati epidemiologici ci mostrano una situazione che sembrerebbe disegnare una fase nuova dell'epidemia ma siccome i numeri sono ancora molto elevati è bene continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo il contagio sembra rallentare per la seconda settimana consecutiva diminuiscono l'incidenza dei casi l'indice di trasmissibilità che scende sotto l'uno a 0,93 e i nuovi casi positivi che calano del 25 per cento negli ultimi sette giorni dobbiamo tenere ancora i piedi per terra e avere ancora massima prudenza ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al covid non è ancora il momento però di abbassare la guardia sono sempre tanti non vaccinati nonostante l'obbligo gli over 50 senza vaccino sono più di un milione e mezzo e le marche dove la situazione negli ospedali peggiora passeranno da lunedì in zona arancione allo spallanzani di roma il primo paziente in italia curato con la pillola antivirale pax lovid si tratta di un uomo di 54 anni con malattia cardiovascolare e covid 19 sintomatico da tre giorni ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulate durante i lunghi mesi della pandemia di coronavirus specialmente per ciò che riguarda le cure oncologiche sono tra i deleteri effetti della pandemia dati diffusi oggi proprio in occasione della giornata mondiale contro il cancro caterina dall'olio sono un milione almeno i casi di tumore non diagnosticati in europa a causa della pandemia il dato si legge in un rapporto del parlamento europeo che ha anche stimato in 100 milioni test di prevenzione non effettuati nel 2020 blocchi di attività blocchi e cancellazioni di esami di prevenzione tutto ciò rischia di portare indietro la situazione anche di 10 o 20 anni e la realtà attuale già dimostra un'importante retrocessione con ripercussioni inevitabili sulla salute di tantissimi malati cominciamo a vedere diagnosi di tumori più avanzate in una diminuzione appunto della sopravvivenza e della in aumento della mortalità per superare questo stallo serve un piano di recupero dell'oncologia del tutto incompatibile con gli ulteriori tagli annunciati nel settore della sanità pubblica tanto siamo preoccupati che abbiamo costituito un gruppo di società scientifiche una trentina tra le cui le maggiori italiane a sostegno di una ricostruzione adeguata e di un pronto intervento sul sistema ospedaliero italiano che possa in qualche modo attenuare e migliorare questa questa situazione non è tempo di indifferenza o siamo fratelli o crolla tutto è l'accurato appello del papa alla fraternità in un video messaggio inviato a dubai in occasione delle celebrazioni della seconda giornata internazionale della fratellanza umana il servizio di paolo fucili oggi lo ripeto non è tempo di indifferenza o siamo fratelli o crolla tutto e questo non è un'espressione meramente literaria di tragedia no è la verità francesco parla oggi dal vaticano rivolto a dubai video messaggio indirizzato all'evento celebrativo della seconda giornata internazionale della fratellanza umana che anche se è un percorso lungo spiega è l'ancora di salvezza per l'umanità vivere in pace e in armonia perché siamo tutti creature di dio lo vediamo nelle piccole guerre in questa terza guerra mondiale a pezzetti come si distruggono i popoli come i bambini non hanno da mangiare come cala l'educazione è una distruzione o siamo fratelli o crolla tutto era il 4 febbraio 2019 ad abu dhabi emirati arabi uniti quando francesco e il grande imam al tayeb sottoscrissero il più solenne impegno preso finora insieme dalle più alte guide spirituali cristiana e musulmana del globo a diffondere pace e tolleranza è stata poi l'assemblea delle nazioni uniti ad istituire la ricorrenza odierna tema quest'anno ispirato ad abramo sotto lo stesso cielo con lo stesso bisogno tutti di amicizia e solidarietà commenta al tayeb per affrontare le sfide che oggi minacciano l'umanità proprio in queste ore in ucraina la situazione è ancora molto tesa nonostante l'impegno delle diplomazie internazionali marco burini chissà che vladimir putin battezzato con il nome del re condottiero e santo venerato da ucraini e russi non porti a casa da pechino un po di spirito olimpico cioè pacifico se è vero che nell'antichità sospendevano le guerre durante le olimpiadi invece oggi l'europa rischia di precipitare in un'altra guerra e pare che la prima preoccupazione non sia evitarla ma incolpare l'altro di averla iniziata secondo l'intelligenza americana mosca sta preparando un video falso con l'esercito ucraino che attacca postazioni russe o nei territori occupati dai filorussi scene violente che scatenerebbero l'emozione pubblica e fornirebbero il pretesto per l'invasione il cremlino nega tutto ovviamente ma i venti di guerra fanno volare putin nei sondaggi tutta l'iniziativa diplomatica ruota intorno a lui macron che vuole giocare da protagonista in questa partita andrà a trovarlo lunedì anche erdogan dopo essere stato a chieve da zenezky dovrebbe andare a mosca da cui la turchia sul fronte opposto in siria e libia dipende per il gas come l'europa d'altronde mosca lo sta usando come mezzo di pressione contro di noi dice la presidente della commissione von der leyen ecco perché dall'elenco delle sanzioni non si può escludere nord stream 2 il nuovo gasdotto che arriva in germania e che tiene sotto pressione il governo di berlino il cancelliere schultz prova a uscire dall'angolo e lunedì vola a washington da biden intanto i soldati americani stanno arrivando nelle basi europee mentre le esercitazioni al confine si intensificano le forze politiche impegnate a dare risposte concrete alle sollecitazioni contenute del discorso di ieri del presidente della repubblica letta ha chiesto un incontro a tutti i leader di partito sentiamo augusto cantelmi tradurre gli applausi fatti concreti il giorno dopo il discorso di insediamento di mattarella con oltre 50 interruzioni dall'aula arriva la spinta dei partiti a fare qualcosa a prendere l'iniziativa il segretario del pd letta che ha inviato oggi una lettera a tutti i capigruppo di camere senato per individuare un percorso comune di cose da fare nell'ultimo scorcio di legislatura e di un patto di fine legislatura ne ha parlato anche il capo politico dei 5 stelle conte nel suo faccia a faccia a palazzo chigi con il presidente del consiglio draghi le sofferenze le difficoltà a livello sanitario economico sociale sono diffuse come anche ci ha ricordato ieri il presidente mattarella nel suo splendido discorso grandi manovre anche al centro con l'imminente nascita di un'ampia aggregazione moderata che va da italia viva di matteo renzi a coraggio italia allora coraggio italia da tempo sta lavorando alla costituzione di un grande centro moderato ed oggi ad arco rincontro tra berlusconi e casini una risposta concreta alla povertà e la solitudine aumentate in pandemia il nostro inviato morizio dischino si è stato allestito un ambulatorio medico per aiutare chi è in difficoltà vediamo insieme don stefano è prete dal 91 dal 2010 è parroco a san basilio nell'omonimo quartiere di roma a quel tempo c'erano piccole suore dell'assunzione volontari impegnati per la salute in una zona con molti disagi appesantiti dalla mala gestione delle case popolari con l'emergenza covid le criticità sono esplose la richiesta è aumentata di aiuto e di bisogni reali ma comunque quello che notiamo c'è stato anche un incremento della provvidenza la parrocchia distribuisce più pacchi alimentari e paga più bollette a famiglie precipitate nella povertà alla crescente richiesta di assistenza sanitaria san basilio ha potenziato la risposta allestendo ambulatori medici sotto la chiesa si è sviluppata negli ultimi anni soprattutto dopo col covid abbiamo ripreso l'attività diciamo in maniera nuova anche con questa attività grazie ai dottori della san vincenzo ci sono dentisti oculisti psicologi pediatri e cardiologi mi è stato chiesto da parte di alcuni amici della san vincenzo e mi è sembrata una una un privilegio quasi di poter poter fare questo io amo la persona e se la persona in difficoltà noi siamo io e salvadore cerchiamo di fare il tutto per aiutarla san basilio è una delle 65 parrocchie romane su 334 coinvolte nel progetto delle reti di prossimità per la salute promosso dalla caritas di roma nel 2018 due anni prima della pandemia quando me l'hanno detto e quando sono riuscita a prenotare una visita che me l'hanno data da un giorno all'altro è stato un miracolo perché dico come san basilio la chiesa fa questo gratis per la gente che non può andare a pagare 100 euro una visita e questo non me lo chiama miracolo questa è una cosa bellissima ed ora notizia di un fatto accaduto proprio poco fa negli stati uniti a minneapolis un afroamericano è stato ucciso nel suo appartamento la stessa città minneapolis di george floyd due poliziotti che avevano fatto irruzione per una perquisizione in una indagine per omicidio lo riporta la cnn che pubblica il video ripreso dalle body cam dei poliziotti nelle immagini si vedono gli agenti che entrano urlando polizia perquisizione sparano a sangue freddo ad un uomo che si trova a letto sotto le coperte e pare avere una pistola in mano secondo la cnn l'afroamericano che si chiamava mir loc non era l'obiettivo della perquisizione ed ora in marocco per seguire la vicenda di un bimbo caduto in un pozzo una storia che ci riporta alla mente il dramma di alfredino rampi alessandra camarca è una corsa contro il tempo per trarre in salvo il piccolo ryan di cinque anni caduto in un pozzo in marocco quattro giorni fa la gente in attesa per vedere il piccolo uscire dal buco del terreno che sembra averlo inghiottito intanto si scava senza sosta notte e giorno perché il piccolo è ancora vivo è stato sentito piangere e pregare ryan si era allontanato per giocare nei campi come aveva fatto altre volte in una zona rurale vicino la città marocchina di chef shoyan la sera però la mamma non lo ha visto rientrare ha dato l'allarme il bimbo sembrava scomparso nel nulla finché alcuni addetti ai lavori hanno scoperto che era caduto in un pozzo profondo 60 metri i soccorsi sono scattati immediatamente ma le operazioni si stanno rivelando molto complicate il terreno è roccioso il borgo si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del riff al nord del paese l'incidente che a noi italiani non può non ricordare la drammatica vicenda del piccolo alfredino è accaduto martedì nel tardo pomeriggio e la notizia ha fatto il giro del marocco commuovendo il paese intero è stata chiusa intorno alle 18 in campi d'oglio la camera ardente per l'attrice monica vitti morta il 2 febbraio all'età di 90 anni durante tutta la giornata tante persone sono passate dalla sala della protomoteca per dare l'ultimo saluto all'attrice icona del cinema italiano che verrà poi ricordata stasera alle 22 e 30 nella puntata di effetto notte fabio falsone di fondo era una persona allegra sempre pronta a giocare a scherzare ridere era veramente in questo straordinaria e infatti ci mancherà c'è tempo sino a domani alle 13 per rendere l'ultimo maggio in campi d'oglio a monica vitti sono venuti in tantissimi oggi per ricordare questa attrice amatissima la quale ognuno di noi ha un ricordo che resta vivo nel cuore lo mostrano queste immagini anche per questo il sindaco qualtieri annunciato che presto le verrà dedicato un luogo a roma ad abbracciare il marito roberto russo che l'ha assistita negli ultimi vent'anni protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo ma anche soprattutto il pubblico una giornata fatta di ricordi di tristezza ma anche illuminata dal sorriso dall'ironia che sono stati da sempre il tratto caratteristico di questa attrice e che tra cinema e vita l'annorizza unica tristezza ma anche tenerezza aspettando il funerale domani alle 15 a roma in del popolo nella basilica di santa maria in monte santo la cosiddetta chiesa degli artisti sono pezzi di vita che se ne vanno abbiamo passato tanti anni insieme a divertirci io non ero nessuno mi ricordo ho avuto il piacere di incontrarla e cantavamo suonavamo ridevamo insomma una donna molto speciale dal intellettuale che amava i film di antonioni alla persona del popolo che l'amava come il suo cognome ricorda come donna del popolo donna di un cinema popolare amato da tutti gli italiani ha ripreso come aveva lasciato ritorno in pista vincente per il due volte campione olimpico marcel jacobs al meeting di berlino ha vinto i 60 metri indoor in 6 secondi e 51 centesimi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato sono tornato e sono lo stesso di sempre ha detto l'azzurro dopo il traguardo e per oggi è tutto vi lascio agli approfondimenti di guerra e pace con antonio soviero buon proseguimento di serata arrivederci